Questa mattina in Procura Pescara dinanzi al GIP Elio Bongrazio c'è stato l'interrogatorio dei primi tre indagati dell'inchiesta denominata Grandi Eventi. In Tribunale si sono presentati Moreno Di Petrantonio difeso dall'avvocato Antonio Aliano e gli imprenditori Andrea Cipolla difeso dal legale Marco Spagnolo e Cristian Summa difeso dal legale Ugo Di Silvestre. Per poter meglio leggere le carte dell'inchiesta i tre si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Mercoledì prossimo dovrebbero tenersi gli altri due interrogatori degli ex assessori Giacomo Cuzzi e Simona Di Carlo difesi rispettivamente dagli avvocati Gianfranco Iadecola e Nicola Lotti e dall'avvocato Gianluca Pizzuti. Le accuse a vario titolo sono quelle di corruzione e turbativa d'asta, finanziamenti illeciti e assunzioni clientelari. A nostro microfono all'uscita di Palazzo di Giustizia queste le parole rilasciate dall'avvocato di Di Pietrantonio, Anthony Aliano. Si si avvalza dalla facoltà di non rispondere, è molto fiducioso dell'operato della magistratura e evidentemente avrà modo di fare chiarezza anche mio tramite presso le sedie e i modi più opportuni. Oggi era un interrogatorio di garanzia, quindi è un momento in cui non abbiamo piena contezza di quello che c'è nel fascicolo della procura, quindi avremo modo in realtà di chiarire ogni momento quando avremo piena contezza di quello che c'è nel fascicolo della procura. È sufficiente chiarire ogni momento, anche ricollocarlo temporalmente, quindi dirimere un momento di confusione che evidentemente si è creato anche sui momenti e sugli episodi. Confusione? Evidentemente da quello che ognuno di voi ha potuto leggere sulla stampa ci sono momenti che non sono facilmente ricollocabili nel tempo, quindi dobbiamo semplicemente fare chiarezza dei fatti e siamo fiduciosi che la magistratura avrà modo di svolgere il proprio compito in maniera diligente. Attendiamo dalla procura decisioni, sicuramente avrò modo nei prossimi giorni di cercare di interagire con la procura per le misure cautelari.